Musica Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo nella prima puntata di Destiny Siamo con Alex Pesca e DJ Matte per voi, salutate Ciao È partito lui Ragazzi oggi siamo in questa missione che si chiama l'ultima parabola Io avevo già giocato a Destiny nella demo e sono arrivato a livello 5 praticamente Quindi adesso andremo a devastare un po' di alieni, come si chiamano? I caduti Non lo sapevo sinceramente Però sono in piedi e non sono per terra Ok, prendiamoci la nostra moto Strafig Perfetto E si può partire Beh ragazzi, possiamo andare Iniziamo a sparare ragazzi È schifo Ecco, già mi stanno distruggendo Perfetto Siamo subito morti Dove? Sono cazzo Oddio, la moto Chi è quello? Attenzione Aspettate, mi si era girata la moto Sì Aspettate cosa devi fare qua, dai Investirli 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 Mori Alex Ti diverti Fam C'è mai città una granata Noi ragazzi siamo con i fucilati ovviamente Guardate questi Guardate, lo uccido col coso No Mori No, lo stavo uccidendo io con il mio cazzo di coltello figo Oh grazie Quindi ragazzi andiamo appunto dell'obiettivo Ragazzi noi con le moto a profusione qua Io voglio salire in un modo figo, molto figo Però non ce la farò mai Aiuto D'essere umano Siamo qua Super caricata pronta Iniziamo a fare il casino Vai tranquillo Vai là con la tua Super Bomba Ah vabbè Ok Madonna L'hai massacrato Sì, lo chiusi in un colpo L'hai trucidato Arriviamo Ragazzi cercheremo di salire di livello Perché io c'ho le armi di merda Sì, sì Ora invece c'hanno le armi cazzute E non vale Sì, è un caglio della posta Sì, è un caglio della posta Sì, è un caglio della posta Oddio, che è Goku Si stanno riversando in superficie Dove devo andare, ok Sì, se lo fai Ma questa l'avevo fatta Che poi c'è tutto a buio qua dentro Ah, è lui che spara Ma dopo È dopo Ah, ok Dopo Dopo si continua Non lo sapevo Ma qua c'erano i nostri chat Iniziamo qua a devastare Perché le affine Gli nemici Mamma mia Mori Ragazzi qua c'è il casino Iniziamo a fare Il macello Chi è questo? Raghietto Boom È quasi impossibile che ti uccidino Vedi? Devi andare tranquillo corpo a corpo Corpo a corpo Due colpe è morto Ti vola Ah, io non lo Ok Ok Capisci Perché DJ Matta imita Goku? Chi sei? Goku non lo sai Però Presto lo scoprirai E poi Ti scopri Io? Sì, te le trasporti No, ma cosa è Goku? Io sono niente Ce l'ho io o te le trasporto Se vuole No, poi vediamo queste cose nuove Che sennò Confusione a Goku Oh Mella mia Chi è questo? Ho lasciato me a granata Sì, sai Questo sparo È un tipo online Quanto è bello È molto sexy Mori Continuiamo la caccia Ancora Mori Adonno Ho visto, ho visto Grazie Oh Livello sexy Viene un colpo Madonna L'ho visto giù io L'ho visto giù io Mamma mia Che potenza Dobbiamo uccidere caduti Dove stanno? Sono qua in piedi Da qualche parte In piedi da qualche parte Non tutti qua dietro I vandali Era una battutaccia Sorpresa Oh qua c'è una pianta Prendila Prendila Vai Ti ti aiuta per fare qualche modifica Alle armi Inutile perché Ma dopo È molto Dove dobbiamo andare ragazzi? Oh chi è questo? Ah è morto È morto Oh che casino sta qua Mamma mia Ad Alex poi gli faccio Giardino oscuro Giardino nero Giardino nero Quando Oddio chi è questo? Ho spalaccino Giardino Giardino Progresso Grimorio Mi abbia affatto Quella che c'è Ma andiamo Dai Dai Uh Tant'è bello questa Ok Ok Eh ma loro Sparano meglio Devo sparare Allora Ok È la legge Dai 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 Qua ti diverti Alex Boom La granata Ho lasciato Ho lasciato Ho lasciato una granata in mezzo Così Ti vuoi divertire Io Intanto vado avanti Ciao Aiuto Madonna Non si capiva Non accetta Madonna Sono morto nel modo Figo del mondo Che tipi mi sparavano Io sparavo Figo la Ok Dove si va? Ciao Vai dentro Dentro Sono questi Fatto Fatto Sono morto Alex guarda che arriva L'ingravo Chi è? Chi sono lui? L'ingravo Oddio Viene di nemici Finchio raga la cazzo Cazzo è cazzuta Cerca di Cerca di schivare Sfere viola Oddio Oh Aiuto Ficca le onde energetiche Morite Sono cazzo È volato Guarda quella là La magliarda Eh l'ho vista Muri Magliarda Ok Io li lanciavo I contelli sotto Ma che casino è là Mamma mia Un'altra strana Mi aiuto Vai Alex Torna indietro Torna indietro Via Non seguirmi Minchia ragazzi Sto giù È davvero figo Lo consiglio a tutti Madonna mia Via Io devo salvare Qualcuno Che potete Poi sparare Ancora Segui sei Viola qua Oh Voglio usare Lanciarazzi Boom Ma chi arriva L'abbiamo risciato Eccolo Niente Munizioni finite Dai Aiuto Successo Muri Boom Spalato Eccoli gli altri Eccoli gli altri Ok Molite Munizioni Grazie 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 Eccolo qua Uh Inversione potente Ma questa strana Che ha deciso Deve stare sempre qua Mi aiuto Che casino Lanciarazzi Lanciarazzi Eccolo qua Al botta Eccolo Boom Boom Mi sono fatto Uccidere Chi c'è Chi è questo Stavo carichiamare Madonna L'ho passato Grazie Muri Ok Minchio la canzone Cazzo Di nuovo Vai Nivello Nivello 6 Grande Quindi ragazzi Abbiamo terminato Questa missione Il gioco davvero Spettacolare Ovviamente Continueremo la serie Che arriverà Magari la prossima Settimana Quindi Perfetto Ragazzi Salutate Addio No 49 Cigli Wow Arriviamo a 30 like Per questo episodio Iscrivetevi al canale Condividete il video Lasciate un like Sulla pagina di facebook Quindi ragazzi Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti Se dentro domani Non arriva un milione Di iscritti Siete tutti morti Ciao Bastard Ciao